È assicurato l'inserimento dei bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi nelle scuole dell'infanzia nei comuni situati in aree montane. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta regionale, in particolare l'assessore regionale all'istruzione Valentina Apria, a consentire l'accoglienza dei bambini nelle cosiddette classi primavera nell'anno scolastico 2013-2014. L'assessore ha dichiarato che la Regione si è già mossa per permettere alle scuole dell'infanzia collocate in comuni disagiati, soprattutto montani, di poter ospitare anche i bambini tra i 24 e i 36 mesi al fine di poter garantire un servizio alle famiglie in mancanza di adeguate strutture ricettive per la primissima infanzia. A seguito dell'intesa con l'ufficio scolastico regionale, la Regione in questi anni ha sostenuto con risorse autonome per un milione di euro all'anno le cosiddette sezioni primavera in cui è possibile accogliere bimbi nella stessa fascia di età realizzando una sezione autonoma aggregata alle scuole dell'infanzia.